Allora, attenzione, 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 perché è già salito sul palco, per me è un fratello, perché ci conosciamo da un sacco di anni, ma non possiamo dire quanti, se non poi dobbiamo uccidermi, un po' di casino per Cristian, non ci rigano. Allora, per chi non lo conoscesse, per chi non lo conoscesse, Cristian è un grande session man, musicista, produttore, è stato sul palco di grandissimi artisti italiani, l'ultimo in ordine di tempo, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Lorenzo Giovanotti, ha partecipato alla produzione di un sacco di dischi di musica italiana e Cristian si diverte a scrivere, comporre, suonare, con l'ausilio di un po' di aggeggi elettronici che vedete sul palco. Lo spettacolo che sta per proporvi e proporci è uno spettacolo che tecnicamente si chiama Line Looping, quindi costruisce delle canzoni registrando delle parti suonate al volo, vedrete che suonerà sia le percussioni, sia tutta una serie di tastiere, di affetti, di aggeggi strani, poche parole, basta con le parole, anzi, ancora un grande applauso, Cristian Lucci-Rugano. Grazie a tutti, grazie per questa super presentazione. Grazie a tutti. 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 a tutti.